Zone a traffico limitato, isola pedonale permanente nel centro cittadino e zone in cui il limite sarà affistato a 30 km orari. Così cambia la viabilità del comune di Cassino. Ad annunciarlo è l'assessore a ramo Riccardo Gonzales. Dopo aver adottato l'atto di indirizzo, i tecnici incaricati di redigere il nuovo piano del traffico hanno provveduto a protocollare la proposta, che verrà dapprima sottoposta al vaglio del dirigente comunale e poi discussa all'interno delle commissioni consigliari permanenti competenti, sottolinea l'assessore. Dunque l'iter che punta ad una vivibilità diversa del centro urbano è partito. Si tratta di una serie di provvedimenti che tra l'altro hanno l'obiettivo di favorire la diffusione dell'utilizzo della bicicletta al centro e in periferia, anche nell'ottica di una riduzione della concentrazione delle PM10 nell'area Cassinate. Le novità protocollate verranno discusse anche con i cittadini, prima di essere portate in consiglio comunale, cui spetterà l'approvazione definitiva. Un dialogo costruttivo dunque, senza cadere però in ricatti, come già l'assessore aveva sottolineato. Parte della cittadinanza, soprattutto esercenti, si sono opposti nei mesi scorsi all'istituzione dell'isola pedonale in centro, una presa di posizione netta che l'amministrazione comunale tutta e l'assessore Consales in primis non ha mai digerito, dimostrando con dati e documenti che l'istituzione dell'area pedonale non solo aiuta l'ambiente, ma favorisce il passeggio di cittadini e turisti che risulterebbero così invogliati all'acquisto. Ecco perché la cittadinanza verrà interpellata, ma evidenza Consales non sarà un gruppo di esercenti a decidere come i residenti tutti potranno godere della città.